Sono contento per i gol, sono contento per il risultato della squadra che mancava da un po' di tempo, più per sfortuna che per le partite che facevamo. Il gruppo se lo merita, il gruppo è forte e sono contento per questo. Come si fa a trovare la prontezza di riflessi per fare una giocata del genere in piena area di rigore quando il gol è importante, perché in quel momento per voi era fondamentale trovare il gol? Guarda, è soltanto istinto. Non mi sono reso neanche conto sinceramente del gol. Infatti mi divertirò stasera a vederlo a casa con i miei figli magari, però mi hanno detto che è stato un bel gol. Consigliere splendida con il gol vincente, condizione fortumosa e il gol del pareggio. Sì, il primo mi sono ritrovato la palla lì, ho cercato la soluzione migliore, il secondo è stato un bel gol. La difesa è attenta che va allontanare con la palla. Ma sono degli attimi, non è colpa della difesa, non è completamente bravura dell'attaccante in quel momento. Hai visto altre squadre giocate, rispetto all'anno scorso, anche voi stavate in altri lini, come mai l'anno scorso, per capire qual è il tuo giudice, l'anno scorso che già le pretendenti si erano attestate tra steve e regali, invece quest'anno è un'alta lina. Secondo me è più competitivo rispetto all'anno scorso, perché le squadre sono molto più attrezzate quest'anno. L'anno scorso già era un buon campionato, ma quest'anno secondo me il livello si è alzato un pochino. L'anno scorso magari c'erano due squadre che facevano pochi punti e permettevano magari a quelle su di fare un passo in avanti in più. Quest'anno è tutto equilibrato. Quindi sono mediamente attrezzate un po'. Sì, dai, un po' tutte. Un po' tutte. E questa è una brutta notizia per squadre come i tipi che devono rivedere la squadra salvezza. E' un'attività che si alzi addirittura. L'anno scorso la salvezza era ridosso quasi dei play-off. Sì, perché noi siamo arrivati a due o tre punti, se non sbaglio. La dodicesima è arrivata l'anno scorso a 21 punti. È il gol più bello della tua carriera. Sì, dai, penso che sì. Sì, dai, penso. Sì, dai, penso.